Bounty Killer Giornata senza pareggi, ricca di gol invece quella della promozione Girone A. Cinque vittorie interne, tre esterne, 26 reti in totale e prime tre della classe vincenti e dunque classifica immutata. La capolista Belvedere va a vincere a Sant'Agata per 2-1, stiamo vedendo il meglio nelle immagini, e mantiene immutate le distanze con la Rossanese, vincente anch'essa a Cassano e con il Praia Tortora, che batte ma con molta fatica l'Acri e lo distacca di otto lunghezze in classifica. Chi si riavvicina ai play-off insistentemente è la Mantea, che vince contro la mina vagante Juvenilia e si porta a quota 35. Ottima affermazione interna per la Garibaldina, 2-0 sul Marina di Schiavonea, con reti di Fabricatore e Morrone, e 11 Presilano che sale a quota 33, a soli due punti dalla zona play-off. In coda, il Sanfili ne rifila 4 a un ormai rassegnato San Marco. Il Cutro batte con un pesante 3-0 la Promosport e riapre tutti i giochi, mentre la nuova Rogliano va a vincere a Caccuri, la supera in classifica e si tira momentaneamente fuori dalla lotta play-out.